Sabina Guzzanti, lei sta lavorando a un nuovo film documentario sulla trattativa Stato-Mafia, no? Sì, è un film, non è un documentario, sì, è quasi finito, uscirà nella prossima stagione. Quindi uscirà in autunno? Sì, penso, è stato un film abbastanza travagliato, abbiamo avuto qualche difficoltà. Perché ci può dire dare un'anticipazione? Beh, intanto è stato molto difficile finanziarlo, poi a un certo punto ci hanno anche rubato il girato e quindi abbiamo avuto, esce con un po' di ritardo rispetto a quanto previsto. Come si intitolerà? Penso che si intitolerà la trattativa ed è un film, secondo me, importante perché appunto è lì da cercare la risposta per capire perché questo paese è paralizzato da vent'anni, perché da vent'anni ci sono sempre gli stessi imprenditori, che poi sono pure gli stessi che stavano nell'inchiesta a cui lavorava anche Falcone, quella mafia appalti, perché c'è sempre la stessa classe politica, perché certe figure minori diventano importanti, perché certi dirigenti vengono promossi continuamente sia dalla destra che dalla sinistra e secondo me è anche una risposta alla domanda al perché del suicidio della sinistra, che secondo me non si è esattamente suicidata. Ha cominciato a fare una politica piuttosto inconsistente, questo sì, secondo me anche quelle vicende si trovano... Quindi l'altra trattativa, un film che lei, Cacciari, dovrà sicuramente andare a vedere, perché poi dopo discutiamo su come si è suicidata la sinistra e se si è suicidata per davvero. Se si è veramente suicidata. Grazie.